un saluto a tutti a snow kids e ben ritrovati dopo un anno quasi con un nuovo video infatti eravamo rimasti proprio qui a super mario 3d world per ricominciare un po a fare qualche video sperando che questa estate a settembre per un po più di tempo perché la bimba va all'asilo è cresciuto un po e magari riesco a un attimino ad avere pace e quindi troviamo un attimino qualche stella per riuscire ad entrare nella parte finale del gioco e rialzo anche un pochettino l'audio anzi teniamolo non troppo alto quello del gioco e allora intanto volevo dire che me lo sono anche un po giocato da solo sulla light andando bene in giro e questo pezzo devo dire l'ho passato molto più figo giocarlo sullo schermo devo dire la switch non gioco mai sullo schermo gioco sempre la light questa grande gioco la mia compagna ormai non usavo questo gioco sicuramente da un annetto ok ci siamo ovviamente dobbiamo arrivare in cima a questa torre oh 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 brividi brividi super mario ci concede sempre brividi vediamo un po maghetto non ho un bel niente per ovviamente era il terzo non ho niente per sparare ah no ce l'ho ce l'ho però non è servito polverizzato così e andiamo let's go check point per noi andiamo questi cosi elettrici bisogna schiacciarli ovviamente quando lo stanno elettrificando vediamo cosa c'è qui ci incarognisco molte volte però questo voglio prendere un attimo di tensione un attimo di tensione ma ci siamo questi li dobbiamo fare assolutamente non possiamo concederci il lusso di lasciarli interi no 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 lo sapevo io che non era abbastanza alta la situazione ora siamo mignon e dobbiamo riscendere giù a tutta ok di qua e andiamo easy easy devo dire abbiamo preso una sola stella però chissà dove sono le altre non so se basterà però finiamola qui questo questo livello siamo mi pare al mondo finale perché non ce ne dovrebbero essere altri poi c'è browser fury browser fury che è un altro gioco nel gioco ci faremo anche quello quindi una stellina abbastanza inutile vediamo cosa c'è lì ce l'andiamo a prendere questi mi pare che li dobbiamo fare veramente tutti perché non ho altrimenti sicuramente sufficienti stelline per per proseguire proprio il cancello facciamoci questo tod che è carino questo minigioco quindi si fa si fa tranqui e ok allora prima cosa ci prendiamo questa oh oh vediamo cosa c'è allora due di questi li passiamo allora 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 si può entrare qui questo cosa ci porterà su usciamo altra stella dopodiché ci dovremmo buttare sicuramente da qualche parte ok ci dobbiamo far portare su da questo per andare qui così così poi dobbiamo prendere in contromano questa passerella e abbiamo abbiamo che abbiamo abbiamo questa stella qui poi dobbiamo andare sicuramente oh qua c'è un'altra facciamo partire azzi ok e rimane l'ultima proseguiamo proseguiamo possiamo andare qui saliamo fin sopra poi ci dovremmo buttare forse là dentro corriamo dietro al razzo eccola qui ok fatta relativamente in fretta vi dicevo prima si me lo sono giocato però mi sono arrivato proprio qui e ho detto vabbè continuiamolo in video anche per mettere un video su youtube ogni tanto so che magari non è un contenuto del mio canale ho iniziato a fare giochi di switch da poco però avevo voglia di fare un video e volevo riportarlo di super mario allora qui abbiamo questo ma io direi di prenderci altre stelle a quest'altro solo direi troppo dai ci facciamo questo livello e il prossimo vediamo se riusciamo o meno a raggiungere la quantità di stelline necessarie livelli sott'acqua che sono diciamo il mio incubo dal primo super mario per il super nintendo quindi subisco livelli subacquei subisco subacquei da parecchio parecchio questo no 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 uuuu cioè sono riuscito anche a saltare in testa roba potente attenzione attenzione brividi brividi oh 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 una stella cioè ragazzi giuro non lo sapevo rotto a casaccio OP OP questa stella che altrimenti non avremmo preso andiamo di qua mamma mia che virtuosismi e andiamo la prima quindi potrebbero essercene anche delle altre qui saliamo saliamo sicuramente una stella ce la porta questo sali 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 ficchiamoci qua hanno una stella hanno una stella eccola eccola no 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 fatti prendere maledetto ok dobbiamo ora soltanto aspettarla di nuovo e buttarci dov'è dov'è moneta no stella ma perchè non si fa prendere oh maledizione via 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 qui non dovrebbero essercene altre quindi scendiamo perfetto direi perfetto eccoci qua dai stendiamo sti pesciolini vediamo se ci da capisco perchè c'è una specie di bug inizia a correre invece di lanciare di lanciare le sfere di fuoco vabbè andiamo di qua prendiamoci anche tutte queste monete perchè no una specie di bonus ok vediamo se c'è qualcosa di invisibile come sempre bordi delle uscite no stavolta no andiamo di nuovo sott'acqua ok ok allora andiamo un po' no 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 allora dobbiamo andare di qua ok adesso si può prendere perfetto tutte e tre è ottimo tutte e tre ottimo vediamo dove possiamo andare su su andiamo altra situazione l'osca vediamo passiamo in mezzo dove dobbiamo andare oh 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 omg omg ce la siamo cavata brividi per un pelo come sempre ci sta scadendo il tempo Girati OMG di nuovo C'è mancato un pelo Non riuscite a scampare Ma adesso mi becca Lo sapevo adesso mi becca Ok Sparite la circolazione Andiamo di qua Perfetto Un grande classico Un grande classico I due piani Andiamo di qua Oh c'è un timbrino Lo vogliamo No Questa è un'ingiustizia Questa è un'ingiustizia C'è mancato un pelo Bustiamoci E andiamo Di qua Mi becca Mi becca Mi becca Per un pelo Mi becca Una mattanza Ok Siamo qui Possiamo andare All'uscita E Dai Uno Due Sette Mamma mia Mamma mia Come avrebbe detto Super Mario Mamma mia Ci sta Ci sta Ci può stare Ultimo Dai Ultimo per questo video Abbiamo entrambe le strade Per questo vulcano E poi E poi E poi forse Il boss finale Comunque L'ultima parte Facciamoci questo Vediamo un po' Cosa tiriamo fuori Della fossa corgogliante E andiamo Let's go Che succede? Ok Con Ok Nulla Ovviamente nulla E ci Becchiamo Il boomerang Attenzione Sale il livello Del magma Vediamo le zone Che vengono coperte Ok Dobbiamo arrivare Di là Andiamo di qua No 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 Aspettiamo un attimo Che sta risalendo Sicuro Mi sembrava Per nulla Una buona idea Andiamo di qua Oh Lo ribecco Questi Sì però Ce li devo prendere No Ok Oh 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 E quella stella? Che succede Qui? Ah Boomerang Ok Boomerang Vai Ce l'ho Beccarsi una volta Di rimessa Andiamo di qua Ok Sono fatta abbastanza In velocità Checkpoint Qua sale sicuro Il magma Quindi Sì Dobbiamo arrivare All'altro L'altra base Riparti subito A dormire tu Ok Sono stato Veramente Un genio A fare Quella mossa Ma non c'è problema Ce lo riprendiamo Subito Vattene Vattene Non ho più Vattene Ma No Ingiustizia Via 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 Boom 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 Ok Ok Una sola stella per noi Non so dove fossero le altre Ma Ma Va bene così Va bene così Bene così Vediamo quanto Quante altre stelle Dovremmo prendere In ogni caso E se Quelle che mancano Le prendo Ovviamente Da solo Senza Senza farlo in video Che risulta noioso Rifare i livelli già fatti Capire dove stanno Eccetera E quindi In ogni caso Sia che adesso possiamo Sia che adesso non possiamo Vediamo intanto se possiamo 130 A quanto pare Le abbiamo Abbiamo 139 Quindi Lo andiamo a aprire direttamente Nel prossimo video Adesso ci Facciamo Questa slot Dove Offla Dove Dove L'ho L'ho mollata Intanto potete sentire E godervi il gatto Che fa un'Africa Ragazzi Cioè Fa un'Africa Cioè Neanche un cane È capace di fare Così tanto casino Come fa Il mio gatto Cioè È veramente Un casino Ok Abbiamo preso La foglia Vediamo No Ha toppato subito Ragazzi Toppato subito Per un pelo Ho mancato Veramente Di pochissimo L'ho visto Vabbè Non fa niente Può succedere Ci becchiamo Questi tre app E con questi trap Ci Ci salutiamo E come sempre Iscrivetevi Lasciate un like E niente ragazzi Ci si becca Come sempre Nel prossimo video Ciao 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 Ciao